ciao sono il dottor max in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie in questo video analizziamo il sintomo onissi cause e sintomi infiammazione dell'unghia dovuta a microrganismi come batteri o funghi possibili cause di onissi onissi è un sintomo comune o probabile di queste malattie cause rare candida grazie per avermi seguito fino a qui le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia spero di esserti stato utile metti un mi piace iscriviti al canale sarà informato sui nuovi argomenti